È il momento di premere l'acceleratore sulle vaccinazioni, la sola arma che abbiamo contro il Covid per un ritorno alla normalità. Dal 22 aprile, chiunque, dai 60 anni in su e di soggetti fragili, potrà recarsi presso gli hub per vaccinarsi anche senza la prenotazione. E se hai più di 80 anni, non temere, non dovrai fare la fila. Informati presso l'hub più vicino a te. Vaccinandoti, renderai la Sicilia più sicura. Vi aspettiamo, non perdere tempo. È un'iniziativa della Regione Siciliana.